All'ultima giornata andiamo a fare comunque il punto dell'eccellenza con Vittorio Casucci. Vittorio, allora, Sandonato che già domenica scorsa ha vinto il campionato e adesso sono defilate anche chi va ai play-out e chi no. Esatto, è stato un campionato esaltante per le Valdarnese, a un certo periodo sotto le feste natalizie sembrava una Valdarnese la potesse vincere il campionato, però purtroppo è stato Sandonato, a una giornata d'anticipo ha vinto. Oggi non lo so, ma mi dicono che vinceva, pareggiava e poi ha perso in casa con la Bucinese. Ora sono partite da un anno più storia perché ha perso la Bucinese, c'è altre motivazioni, la Bucinese le salva, Figline è salvo, i San Giovanni ora bisogna aspettare perché a Rignano hanno giocato in ritardo per sapere se rimarrà fermo o supererà il primo turno. Poi niente, si spera l'anno prossimo sia un campionato più importante, una Valdarnese finalmente la possa andare nella nostra vallata in Serie D, che è un campionato extra-regione molto più importante anche a livello regionale senza sminuire l'eccellenza. San Giovannese e Castelnovese che si giocheranno quindi l'accesso in Serie D attraverso i play-off, quale secondo te è più avvantaggiata o meglio quale è la più favorita? È una partita difficile perché io quando sono stato a Castelnuovo e poi la famiglia Nosi che è il presidente ha sempre ambito a battere la San Giovannese e non abbiamo mai vinto, mai. Anzi, una volta si è vinto perché ho fatto un reclamo io in Coppa. Poi è sfortunata, quest'anno è stata sfortunata, io l'ho vista a San Giovanni, poi l'ho rivista lì. Niente, favorite è 50-50, però ha questa tradizione contraria, può darsi sia la prima volta una partita e conta veramente che questa volta la Castelnuovese, che è partita unica, possa vincere. Castelnuovese che dovrebbe affrontare o il Foiano o la Sestese, indifferentemente l'una o l'altra, però forse il Foiano potrebbe essere più abbordabile in casa. Non lo so, non lo so, il Foiano ha una potenzialità all'attacco, in difesa è un po' più scarso, però all'attacco c'è due, i nostri giocatori, i miei calciatori, Monaci e l'altro, e Zacchei che possano far male in qualsiasi minuti, sono due squadracce, non lo so, non lo so, sicuramente sono due partite, però se incontrano questi due, partita unica in casa, e in casa è molto avvantaggiata. Un play-off che questa volta potranno contare qualcosa per l'accesso a Serie D? Una volta vinto a livello regionale bisogna andare a livello estra-regione, non è facile, perché non ci scordiamo che l'anno prossimo ci sarà una rivoluzione nella Lega Pro, verrà ristrutturata tutta la Serie C perché dietro i gironi in Serie C spariscano, C2 ne rimane 13-1, ne retrocede una decina, una decina per i gironi che sono 30 squadre, vanno tutte in Serie D, però io sono convinto anche che i retrocedi e i capologhi di provincia, dove sono 100.000 abitanti, potrebbero anche fallire, cioè non fallire nel senso sportivo, non c'è più soldi e non c'è più andare a fare un campionato estra-regionale, ad esempio una squadra importante, ha fatto anche categorie superiori, può preferire pagando la penale i 100.000 euro, può andare a partire dall'eccellenza, può essere perché 30 squadre in Italia che retrocedano dalla C2 in nazionale dilettanti, per quelle nazionali dilettanti li resta molto difficile. Vittorio è l'ultimo punto tuo dell'eccellenza, ti ringraziamo per il tuo impegno e per la tua disponibilità, che campionato è stato questo qui? Bello o brutto? C'è chi dice livellato verso il basso e chi dice invece che è stato un campionato brutto? Bello, scusami. Secondo me è bello, perché noi c'eravamo un po' illusi che una delle tre, Buccine, Figline, San Giovanni e Castelnuovo che potevano andare in C2, i nazionali dilettanti che se lo potrebbero meritare, perché non ci scordiamo che fra Montevarchi, San Giovanni e Figline abbiamo fatto professionisti e secondo me sarebbe anche un bene che ci sia una squadra importante in cui c'è un settore giovanile importante che le altre squadre possano attingere. Secondo me è stato bello, purtroppo ha vinto il San Donato, hanno perso l'ultima partita con il Rignano, quest'anno ha vinto e facciamo complimenti a San Donato. Vediamo, a agosto riparte tutto, niente. Io ora sono anche un pochino fuori perché mi sto divertendo con il calcio femminile. Ieri era a Vicenza per la partita nazionale, abbiamo fatto 0-0, c'aveva una giocatrice che non ha giocato, poi siamo passati a rigore con il Costa Rica, anche lì c'era una nazionale che non ha giocato, però onestamente devo dire a distanza di 5-6 mesi mi sto divertendo e non c'è la stile, non c'è la pressione, si perde, si perde, io mi arrabbio dentro di me, però non tutti si arrabbiano, si perde oggi, si vince la domenica. C'è un approccio un po' diverso. C'è un approccio un po' diverso.